Farè, 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 c'è un problema terribile, sono andato a parlare con il medico del villaggio e mi ha detto che questa notte sono stati attaccati due abitanti del villaggio da un vampiro E chi se ne frega, Steph, che cosa ci facciamo noi qua, scusa, non è un problema nostro, non è il nostro villaggio, andiamocene No, no, questo è il nostro nuovo villaggio, noi cambiamo villaggio ogni volta, sì, sì, non ci vuole nessuno Ma perché capiamo questi posti, Steph? Cioè, è quasi Natale Portiamo sfiga come il Detective Conad, capito? È la stessa cosa, dove andiamo noi succede qualcosa In ogni caso, Farè, dobbiamo per forza investigare perché dobbiamo trovare il vampiro, lo sai che è pericoloso E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Steph, che si chiama Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft in cui tornano il Detective Fere e il Detective Steph Oh, che bei nomi fantastici Mi è piaciuto Allora, Fere, partiamo subito perché qua oggi è una roba pericolosa Se diventa di nuovo notte, magari il vampiro va di nuovo in giro E se ci morsica, diventiamo vampiri e io non vorrei diventare vampiro, Fere Io sì, invece Non è una roba che mi ispira molto No, a me è una cosa che ha sempre ispirato, soprattutto essere immortale Steph, io mi voglio far trasformare, quindi trovalo, grazie Fere, smettile immediatamente, ripigliate Quindi ti abbandono una volta per tutte, che bello Partiamo dalla casa del dottore Dato che ho pensato e mi ha avvisato lui, andiamo da lui a lui, così andiamo a parlarci Allora, ti devo un po' introdurre Si chiama prima di tutto Patrizio È il dottore del villaggio ed è amato da tutti, Fere Perché lui praticamente è gentile con i bambini Cura tutte le persone che ne hanno bisogno È sempre disponibile per tutto Allora, questa è già una cosa strana, Steph Perché i dottori non sono mai amati da tutti Quindi capisci che c'è qualcosa che non va No, 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 no È un dottore falso allora Erano tranquilli perché lui non chiede soldi per curare la gente Lui lo fa Poi soprattutto i bambini I bambini chiamano il dottore Ma sei fuori di testa, Steph È sospetto, io te lo dico Allora controlla bene la casa, cosa ti devo dire Patrizio? Possiamo entrare? Dove è finito? Eccolo, eccolo Salve Patrizio Questa è una bella cosa Eh, vedi? Vedi dei biscotti No, Feren Grazie Vabbè, facciamo finta che non abbia visto nulla Qua c'è l'aria giocattoli Come puoi notare per i bambini Anche questo mi piace, grazie Va bene Qui ti puoi sedere per mangiare il tachino Ok O i biscotti che mi sono appena sgraffignata Oppure i biscotti che ti sei sgraffignata Ma tanto era girato E qua c'è un po' la parte appunto dove lui fa funzioni Patrizio, però non girare gli angoli così che ci fa paura Ma no, ma è tranquillo Sta giusto controllando quando tocchiamo nulla Guarda, Steph Che c'è, Feren Che cos'è questo? Eh, boh, saranno qualche ricetta strana per curare le persone, Feren Non mi so Dai, io continuo a dire che non mi fido al 100% di lui Quindi Queste che sono, queste bottiglie? Questa sono? Il vino pregiato perché magari fa la collezione Ah, ok Alle persone quando vengono a cena a mangiare il tachino Ci sta, ci sta Ok, in ogni caso L'unica cosa Sono felice di avergli rubato due cose Quindi va bene Ok, hai notato però qua che ci sono dei lavori in corso E ha chiuso con delle tapparelle Eh sì A me ha detto che di sopra praticamente c'era la zona dove lui lavora realmente Quindi tutti i lettini eccetera eccetera Ha detto che c'è stata un'epidemia e quindi ha dovuto chiudere tutto La seconda casa che dobbiamo andare a vedere è questa qui Ok Qui abbiamo Dovrebbe chiamarsi Carlo se ricordo bene No Mario, lui è Mario Ma dai non sai neanche i nomi degli abitanti, Steph Siamo arrivati ieri nel villaggio Eh Cioè siamo nuovi di questa zona Io neanche le ho viste alle case quindi almeno sono significata Allora A me hanno detto che questo Mario è un po' svitato Ok Ok quindi Tieniti un po' pronta psicologicamente perché a me hanno avvisato che Ha svitato in che senso? In senso buono? Di quelli che ti fanno ridere o in quel senso che tipo entra e ti pugnala? Non ho idea Sono solo che hai svitato Tu stai attenta ed entra Andiamo Forza Allora Buongiorno Non so neanche dove sia Comunque iniziamo a guardare la casa Ho capito che lui può essere il mio migliore amico, Steph Guarda Entri c'è un ring Un sacco da box Tantissimi trofei Quindi intuisco che lui possa essere un pugile Non capisco cosa ci faccia la pedana qui per ballare Beh perché alleni le gambe con questo Cioè se tu fai così Guarda Se tu ti alleni così Alleni tantissimo i polpacci e le cosce È un grande allenamento Secondo me ha solo qualche hobby un po' particolare, Steph Buongiorno Mario Salve Allora direi che è un combattente al 100% per come è vestito È pieno di altri sacchi da box ovunque fare Quindi vuol dire che se alleno assiduamente Questi sono sicuramente tutti i premi che lui ha vinto nel corso della sua carriera Sì esatto Io non vedo nulla di strano sinceramente Quello che stiamo andando a trovare adesso Ha un nome terribile Si chiama Wolvarus Io non so che nome sia nel mondo Chi è che può scegliere un nome del genere? Non ho idea Cioè chiunque lo scelga ha dei gusti un po' strani E a me hanno parlato in modo un po' particolare di questo Wolvarus E mi hanno detto Ok Che pratica una sorta di Tipo di setta Cioè fa parte di una sorta di setta Di una roba particolare Ok Non lo so fare Io non so Non ho mai visto a casa sua però Aspetta Steph mi è venuta un'idea Aspetta Ok Portiamoli i biscotti I biscotti piacciono a tutti Così magari si calmi Siamo i nuovi vicini Esatto Abbiamo preparato dei biscotti per lui Busa tu però Steph Busa Wolvarus Oddio Steph Ma come cavolo è vestito Tieni Vieni qua Vieni qua Gli li metto a distanza però Li vuoi i biscotti? Ok Tranquillo E di poche parole Steph Allora Oddio Steph vieni qua Che c'è? Ma lì sta sta parte Ecco No Steph Cioè in qualsiasi angolo ti giri sta peggiorando Che vuol dire sta cosa? Fere non lo so Secondo te Sono veri o finti? Toccalo Steph È vero o finto? Che dici? Io sono scappato Ma Steph Non è casa Accidenti a te E dentro casa Se poi decidi di attaccarci E appunto dovremmo essere in due E quindi riuscire Siamo disarmati Fere Vieni qua Steph Smettila Io sono un po' Steph ormai non esco Mi sta fissando Che faccio? Mi sono nascosta dietro la libreria Ma che fai? E beh mi sta guardando Che faccio? Se scappo mi vede Continuiamo a cercare Per ora comunque Allora Non toccarli Che poi mi fanno schifo Non toccarli Non toccarli Gli lasciami i biscotti Magari così torna di buon umore Fere qua ce n'è uno pure senza testa Probabilmente gli è cascata E qui cosa c'è? Tutto chiuso Steph Tutto sbarrato addirittura Non è chiuso È bello sbarrato Sì Non c'è modo di passare Non si vede niente Non si vede niente Esatto Sto cercando di sbirciare Ma non si vede nulla Che succede? Stai pensando a quello che sto pensando io? Eh Guarda che bel quadro Steph Dai Dobbiamo fargli i complimenti C'è un'altra stanza Steph Vieni Ti sta guardando Vi ho lasciato i biscotti Dai Felice Ci sono i biscotti Hanno anche le gocce di cioccolato Oddio Steph Le piace il cioccolato Noi andiamo un attimo Non entrare Steph Noi andiamo un attimo in quella stanza Steph è meglio se non entri E lui per forza Dobbiamo arrestarlo Steph Cioè non ci sono dubbi Guarda Ci sono addirittura due bare Ma secondo te Questa chiusa è dove dorme lui È probabile Perché i vampiri dormono dentro le bare Fere Sì qui c'è un altro povero scheletro Che ancora ti ripeto Non capisco se sono veri o finti Ma non mi voglio fare domande Qui c'è anche un calderone strano Steph Quindi sembra che faccia anche qualche sorta di rituale strano Questo qui Allora Ascoltami È pazzo Steph Ma no Fere Fere devi Scappiamo Steph Fere sei colpevole Ti sente È la fine Ascoltami Scappiamo dalla finestra Rompiamo un vetro e scappiamo Non ci passiamo dalla finestra Fere che siamo Accucciati Non ci passiamo Non possiamo tornare lì C'è lui No 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 Tu fai così eh Ok Ascolta Seguimi Allora apri e corro No 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 Fere segui il mio mood Ok Basta che tu mi segui E andrà tutto bene Ok Ah Wolvarus è proprio una bella casa Speriamo che i biscotti ti siano piaciuti Noi dobbiamo andare Perché siamo in ritardo Arrivederci Ciao Wolvarus Ok Tutto a posto Io sono scappata Anche io Non avevi neanche finito la frase Che ero già fuori In mezzo ai fiorellini Allora Cioè che si fa per forza lui Scusa eh Allora C'è da dire Sospettato numero uno Senza ambro di dubbio Però Dato che il piano di sopra era bloccato Non abbiamo trovato Delle prove proprio certe Cioè non abbiamo trovato Quel qualcosa Ma più certo di così Fa parte di una setta Ha tutti quegli oggetti strani in casa Ti devo dire che ho paura E non voglio rientrarci Vuoi sentirmi dire questo? Sì ma dovremmo chiamare qualcuno Che ci aiuti Qualcuno che ci dia delle armi Proviamo a andare dal guardiano della torre Ok C'è un guardiano nel villaggio Che sta in una torre Andiamo a parlare con lui Magari ci dà una mano E magari possiamo catturarlo Ok Vabbè magari è di sopra no? Guarda queste palle di canone Potrebbero far comodo Contro un vampiro Le prendiamo Le vorrei più che volentieri Andiamo Ferre Forza 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 Allora qua non c'è nessuno Ok lo vedo Lo vedo lo vedo È un po' più sopra Ok dove? Lo vedi? No Ferre l'hai superato Ok aspetta Riscendo Carino come conciato È visto? Sì sì È sorridente È anche forte a combattere Infatti stiamo da lui Che così saremo al sicuro E Ferre ma noi dovremmo Sistemare il problema Non dovremmo Angelo sistemalo Ma non ce ne dà un'arma Tipo almeno una spada Anche brutta Di ferro Qualcosa del genere Non lo so Niente Non lo so Dovremmo chiedergli il permesso Prima di aprire le cesse Ferre non toccare E dai Stef Dobbiamo chiedere il permesso Ferre non puoi toccare Poi se arrabbi Angelo Ci spacca la faccia Ascolta Stef Non te lo volevo dire Ma io ho trovato delle cose Nelle casse qui dietro Eh ma non ti ho detto Allora secondo me Se tu ti metti qua E ti affacci Proprio controllando Che non salga Gli prendiamo qualcosina Ok Vai E ci arrangiamo Vado Allora ovviamente Non è che posso trovare Degli stiletti Angelo stiamo guardando il panorama Degli stiletti di legno Ma ho trovato questi Stef guarda Cosa sono? Sono dei pugnali di legno Che penso che possono essere Riadattati a modi Di stiletto Credo che possa andar bene Ok ok Ne ho presi due Andiamo via Preso tutto? Mi ha detto un attimo Una cosa strana Mi ha detto? Mi ha detto di tornare a guardare Il panorama Mi ha detto di guardare meglio Perché lui ha detto Che ha notato qualcosa Ha notato che gli abbiamo rubato le armi? No 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 Quello ancora non se ne è accorto Per fortuna Però ha detto Che dato che siamo noi Gli investigatori Lui dalla torre Ha notato qualcosa Di particolare In una delle case Ok E mi ha detto Di affacciarmi a guardare Ok Tu vedi qualcosa di strano? Mmm Boh Ferre Eh Guarda qua Vedi? Oddio Stef Ma quello è uno scheletro Di Walvarus Glieli ha rubati Secondo te? No Ferre ma c'è pure del sangue Se tu pensi Nella casa di Walvarus Non abbiamo mai visto del sangue Quindi quegli scheletri Potenzialmente Potevano essere finti Beh se ce l'avessi detto Ci avrebbe anche risparmiato la paura Questa volta Di poche parole Quello del sangue vero Però quella casa di chi è Ferre scusami Da qui non riesco a capire la prospettiva Eh non mi ricordo neanche io Non è che le sto a memoria Aspetta Ferre Che vuoi fare? C'è un solo modo Che No Stef Non ti lanciare Vieni Ferre muoviti No rimango qua Altrimenti mi confondo Non capisco più che casa è Vieni Vabbè Lanciati Ok 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 Allora Questa la lanciamo qui Perché Angelo Non ti abbiamo spaccato pure la torre Oltre ad aver tirubato le armi Vabbè la fa riparare Comunque è meglio Così almeno niente ci vede andare via con le sue armi Dammi un'arma Perché qua adesso sono un po' preoccupato Ok Di chi è questa casa? Fammi vedere Perché non capisco Ferre E io te l'avevo detto Stef Te l'avevo detto che era strano Te l'avevo detto Bisogna organizzare un piano Ok ascoltami Sì Bisogna fare in modo che lui si sposti di casa sua Che tipo non so Quando fa le medicine si sposterà per forza di casa Magari quando va a curare qualcuno Facciamo Facciamo star male qualcuno Così lo va a curare Vieni 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 Ci penso io Ci penso io Ci penso io Praticamente Qui È l'unico che non ti ho fatto vedere Perché tanto mi hanno assicurato tutti Che è super tranquillo Ovvero Carlo Vedi mi ero confuso con i nomi per quello Ah ecco Qui c'è Carlo E lui lavora da McDonald Praticamente gli chiedo di far finta di avere mal di pancia Esatto Il dottore viene A curarlo Noi nel mentre Entriamo in casa sua Andiamo al piano di sopra Però Steph C'è da dire una cosa Come puoi convincere una persona Di avere mal di pancia Quando Patrizio e il dottore È più amato da tutti Io ho un'idea E se vuoi te la dico Ok Gli do un pugno in pancia Così ce l'ha Davvero Così si sente male E il dottore va Perché io non so se lo possiamo convincere C'è ok che non mi sembra molto sveglio Perché guarda sta su un tavolo a guardare dalla finestra Però secondo me non lo convinciamo Steph E qui abbiamo fretta Dobbiamo agire veloci Visto che abbiamo degli indizi concreti Allora io non voglio vedere nulla Quindi esco fuori Fai quello che devi fare E io mi giro dall'altra parte Fatto Steph Due pugni veloci Ed è tutto a posto Stai scherzando Dimmi che non l'hai fatto Dai che sta bene Guardalo che felice Dai Steph E poi ti ripeto Mi dispiace Non l'avresti convinto Come puoi dirgli Guarda il dottore della tua città Probabilmente è un vampiro Che ti ucciderà Come puoi Steph Andiamo Non puoi Non si sarebbe fidato Andiamo a chiamare Patrizio Patrizio Era la cosa giusta da fare Patrizio Carlo sta male Ha mal di pancia Patrizio Io non c'entro in quella casa Io ho un po' di paura Patrizio Patrizio Allora ascolta C'è Carlo che sta malissimo Devi andare a curarlo Assolutamente Muoviti Fa in fretta Perché è davvero in gravi condizioni Ok fare l'abbiamo fregato Non c'è più Guarda È tutto libero alla casa Finalmente sei ne andato Hai un'idea Su come salire al piano di sopra Fere? Perché da qui Spondiamo qualcosa No 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 Da qui fa passare Guarda Il cartello non è fisico Ma come hai fatto? Il problema È che tutte le scale sono Ah Oh no Steph Che si fa? Ascolta Steph Io ho un po' di blocchi Io te li do Tu fai una scale Vai da solo Però muoviamoci No perché io inizio ad avere un po' di paura Cioè se torna e ci becca Eh allora devi essere molto veloce Muoviti 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 Fere Fere È un disastro Steph Vedi quel Cioè Guarda Che cos'è questa cosa? È una ghigliottina Te lo devo dire Lo so che è una ghigliottina Ma perché? Ma ci metti a te Steph Oh mamma mia Dove mi hai portato in sto villaggio maledetto? Oh mamma mia Io te l'ho detto che non ci volevo venire Cioè io volevo andare nelle vacanze di Natalia Nella farmi tipo la vacanza bianca Dove si scia e stare felice Tu mi hai portato in sto inferno Steph Fere siamo fregati Non lo so Prendiamo un indizio e andiamo via Eh tipo questo coso Ok Sì probabilmente ci saranno tutte cose importanti Esatto Andiamocene via Andiamocene via Andiamocene via Veloce 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 Aspetta Fere Non possiamo più scendere Io mi stavo per buttare ma Mi sembra di aver sentito un rumore E per di più È diventata notte Fere No non mi dire che è tornata a casa Steph Penso di sì Non me lo dire E nel caso si è trasformato perché è notte Fere Che facciamo Steph Ok che abbiamo il nostro pugnale di legno Ma non mi sembra una bella Cioè una bella soluzione A me è sembrato di sentire dei passi eh Aspetta aspetta Mi affaccio Piano 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 Per ora non vedo nulla Steph Ok Ok Continuo a non vedere nulla Ok Ascolta se proviamo a correre verso l'uscita Ok Ok 3 2 1 Vai Fere corri Via 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 Oh mamma mia Oh mamma mia picchialo Steph Aspetta tu è il mio pugnale Picchialo Attento 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 Fa malissimo Fa malissimo Steph è un pazzo Con te Patrizio poi Ma che persona brutta che sei Pure i nomi ti dai Fere mi ammazza No 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 Steph aiuto Ammazza anche a me Io sto scappando Fere vieni via Vieni via Vieni via No mi ha ucciso Mi ha ucciso Mi sono chiuso fuori Finisco di mangiare Non ho più la mia arma Allora io ti apro Corri subito a prenderti le tue cose E poi io lo picchio Pronta Vai 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 Fere vai prendere le tue cose Ok eccole 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 Prese Sì cavolo cavolo ce l'ho già dietro Steph aiutami Arrivo Pugnale 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 Ok lo prendo io Lo prendo io Lo prendo io Picchialo Ok brava Picchialo Ma quanta vita c'ha Troppa Secondo me questi pugnali Non funzionano bene Ok lascialo un po' a me Lascialo un po' a me Ok vai Ok Stai recuperando vita Eh più o meno Ok io lo colpisco nel mentre Che comunque mira a te È una bella Una bella tecnica Steph Sì ma non muore Fere Ok È morto Dammi cibo nel frattempo Steph Dammi cibo Dammi cibo Dammi 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 Che ho famissima Ok grazie È andato Fere È morto Credo di sì Perché è strano Non capisco Cioè È morto A me sembra Cioè svenuto Anche perché Non è scomparso Di solito I vampiri Vedo qualcosa a muoversi Che diventino cenere Giusto Lui non è diventato cenere Tieni il pugnale Fere Tieni il pugnale No ce l'ho ce l'ho Forse Non abbiamo ciò che serve Per ammazzarlo realmente Io non lo so Dici Ma ce ne andiamo Allontaniamoci Mentre continua a fissarlo Oddio Steph Sono di vita Aiuto Ma no non ce la faremo mai Steph Non ce la faremo mai Fa troppa paura sto coso Però ho un piano Se lo stendiamo di nuovo ho un piano Attenta Attenta Ok ci provo Ok Questi coltelli non fanno danno Sono una fregatura Io sono bassissimo Aia fa malissimo Lo sto tenendo io Lo sto tenendo Cerco di andare dietro Dietro Ok 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 l'abbiamo steso di nuovo Oh mamma mia la smetti di muoverti Che fai pressione Aspetta Che puoi fare Perché non posso Perché non posso Ok Non mi fa costruire Ferre Non mi fa costruire Non mi fa costruire In certi punti Dannati giocati Distruggiti gli accidenti di palloncini Ok Che ci fanno in questo momento Ok Veloce Aspetta è questo che mi sta impedendo No Ferre non posso finire di chiudere Pazienza Pazienza Perché non si può costruire sto posto Non lo so Accidenti Però se facciamo così Lui tecnicamente non dovrebbe passare da sotto Giusto Stef Soprattutto così Ok Ok Oh no Io me ne vado Io me ne vado Io me ne vado Non è possibile Questo qua passa anche attraverso gli oggetti È immortale È immortale Me ne vado Non me frega nulla Alla fine dobbiamo soltanto scoprire chi è Adesso chiamiamo qualcuno Buffy non lo so E facciamo risolvere lei Perché noi siamo investigatori Ma non siamo persone che possono Ammazzare un vampiro A quanto pare Sono d'accordo Stef Sono d'accordo Ragazzi Se siete siete tutti Lasciateci un bel like La prossima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao